radar lasciati intercettare dalla musica abbiamo già iniziato a far casino vai muovi il microfono sistematelo pure sentiamo il rumore piano piano buongiorno ragazzi come state bene grazie benvenuto a gianmaria voce chitarra degli elefantina hostel ludovico voce tastiere buongiorno anche a te buongiorno gabriele vabbè ragazzi buongiorno a tutti ci vedono al canale 635 del digitale terrestre elefantina hostel elephants come mai questo nome è perché trae ispirazione da elephants and castle la fermata di londra e poi non so per quale motivo è diventato elefantina hostel però elefantina hostel è anche abbastanza pericoloso immaginatevi tre elefanti come voi in un ostello che possono combinare sì sì un po' il toro nella cristalleria questa figura di ingombranza esatto invece questa mattina il radio che ci combinate non è che ce la distruggete abbiamo no non lo so spero di no abbiamo portato questo pezzo riarrangiato in chiave un po' country un po' blues ma questo è il pezzo sul quale ci chiedevate dei cori da parte nostra sì se volete se potete anche cantare c'è un ritornello con botta e risposta di voci quindi possiamo metterci a fare un po' di casino com'è che fa vediamo se riusciamo a così al volo no 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 tutto improvvisiamo improvvisiamo ah improvvisiamo proprio va bene allora se voi siete pronti chitarra via e si parte con le elephants in the hostel live non lo so Grazie a tutti 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 Come mai questo nome in inglese? Voi siete tutti romani di Roma? Noi siamo tutti romani di Roma, solo che... Romani di Roma Purtroppo come dice il Gabriele qua che adesso farà un suo appello, ogni genere musicale ha la sua lingua e quindi? E quindi la tarantella si canta in italiano, in salentino e il rock è inglese Ti saresti mai andato a vedere in Regina cantare bicicletta con Federico Mercurio alla voce? Ma perché no, non lo so, effettivamente i Queen così, in Regina... Purtroppo il problema è che in Italia è difficile andare avanti, anche se i nostri colleghi Planet Funk ci stanno riuscendo piano piano e quindi... Vabbè, piuttosto bene anche... Sì, sì, anche bravissimi hanno, bravissimi veramente... Va bene... E quindi insomma, abbiamo anche degli esempi per dire, ok, loro ce l'hanno fatta, ce la possiamo fare anche noi... Sì, l'importante è impegnarsi e crederci sempre, mollare mai, come diceva, l'avventura durante un talent... Ci fermiamo, tra pochissimo torniamo con Elefanzina Oscar Radar, lasciati intercettare dalla musica